Abbiamo visto molto arrabbiata la fine partita. Cosa non è andata oggi? Cosa si aspettava dalla sua squadra? Non è andato il risultato. La prestazione c'è stata. Dobbiamo fare un bagno di umiltà e metterci in riga subito. Perché la presunzione non fa parte del mio team che è presuntuoso da oggi in poi non fa parte più del nostro gruppo. Voglio una squadra umile e noi paghiamo questo. Forse giochiamo bene, giochiamo un discreto calcio ma non basta. Questo è un campionato dove c'è bisogno di sostanza. Faccio i complimenti a Rigoli perché con la squadra Onzio ha ottenuto il massimo, un grande risultato. Andiamo avanti. Pensiamo alla prossima partita. Scusate. Anche Trapani e dobbiamo prepararci bene. Colgo l'occasione per dire una cosa importante perché è un ambiente nostro in questo momento qua. Sicuramente è un po' giù di morale. Abbiamo una persona che è Silvio Alessi che va tutta la mia solidarietà. Questa settimana qua è stato bersagliato. Dobbiamo essere compatti, dobbiamo essere uniti. Dobbiamo raggiungere un obiettivo importante. In questo momento qua è facile. I mediocri in questo momento qua sparano sulla nostra squadra. Io sono a capo di tutto. Le responsabilità mie me le prendo e dobbiamo essere tutti quanti bravi a rimanere alla stessa parte. Chi non rimanere alla parte giusta per me può scendere a casa. Mister Di Napoli, negli scorsi anni abbiamo lodato questa squadra perché nei momenti difficili è riuscita a venirne fuori. Può una sfida come quella del Provinciale contro il Trapani, la prossima, aiutare a magari uscire fuori da un periodo difficile? Ma sicuramente noi nel nostro DNA è di lottare, di essere compatti. L'anno scorso la salvezza l'abbiamo ottenuta perché i ragazzi erano compatti, uniti e con grande umiltà. Quest'anno proprio bene, siamo giocati discretamente bene e dobbiamo farci un bagno di umiltà. Per primo sono io, come sempre mi prendo io tutte le responsabilità, ma anche i miei ragazzi si devono un attimino e dobbiamo rivedere un attimino come affrontiamo le partite e con quale cattivere ci vuole.